Detenuto agli arresti domiciliari, aveva contattato gli addetti alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piazza Verga, avvertendoli che a causa di escoriazioni ad una mano, si stava arrecando urgentemente alla pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, nel quale però non ha mai messo piede, come accertato da una pattuglia inviata sul posto, mentre un'altra lo attendeva nei pressi della sua abitazione, dove è poi giunto alla guida di una moto in compagnia della moglie. Le manette sono così scattate per il 21enne catanese Cristofaro Angelo Pino, che dovrà rispondere adesso di evasione. In attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.